Armati di pistola e col volto coperto fecero irruzione nel pub Chagù di Termini Merese facendosi consegnare l'incasso della serata. L'assalto venne messo a segno qualche minuto prima delle 5 del mattino dello scorso 9 luglio. I tre autori del colpo adesso sono accusati a vario titolo di rapina aggravata in concorso e detenzione abusiva di armi. Questa mattina i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Termini Merese su richiesta della procura nei confronti di 5 persone. Attraverso l'analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza della zona e dei tabulati telefonici, i militari sono riusciti ad identificare gli autori a ricostruire sia le fasi preparative che quelle esecutive della rapina. Fra gli indagati, tutti i giovani di età compresa fra i 20 e i 22 anni, tre sarebbero stati gli esecutori materiali del colpo, mentre il ruolo degli altri due sarebbe stato quello di fare da palo e agevolare la fuga a bordo di un'auto. Per tutti è stato disposto il trasferimento nel carcere burrafato di Termini Merese. Le ordinanze di oggi sono state messe a segno dai carabinieri del reparto territoriale di Termini, con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri, cacciatore Sicilia, del nucleo cinofili di Palermo e delle stazioni carabinieri di Palermo Livuzza, Lampedusa e aeroporto Punta Raisi.